avevo promesso di fare un video video riguardante una un'altra supposizione una delle supposizioni chiaramente chi mi segue piace un po no queste cose che vengono da lontano che vengono da chissà da dove no mentre alcuni però devo dire l'abilità qualcuno mi danno anche una mano nel senso che mi diano guarda non è così è meglio no io sono sono dell'opinione che più errori facciamo o più errori foo e meno cose rimangono in piedi quindi sono quelle meno cose rimangono in piedi che dovranno portare alla verità qualcuno dirà ma le prove le prove non ce ne frega nulla noi noi o meglio io non gioco al gioco del dell'infiltrato il depistologo non gioca il suo gioco non gioca il fatto di colui afferma che può cascare nel tranello della diffamazione è un gioco di volontario un volontario comunque lo è poi del dello sbaglio forse della legge o voluta dove si arrivano verso verso la verità ma non si può dire perché ci sono le prove non so quello non puoi dirlo perché però diffamazione lo viene l'immagine tutti i giovani su questo aspetto che con la scusa un altro se sempre a discutere se dirò no però a me o qualcuno nel senso come me nello stesso modo quindi potrei dire a noi del di dire in comprovi non è che ci interessa così tanto non mi interessano le carte c'è tipo verbale o deposizione si perché bisogna prendere alcune deposizione per poi portare in contraddizioni ed è quella a me interessa dopodiché scusate credo di prendere questo qui e metterlo dopo di che penso si sente uguale come volume dopo di che dopo di che in base a quello ho sentito tutto questo questo tempo posso tirare le conclusioni mia di alcune cose no mentre parlavo con una persona che mi ha che mi ha passato il link dell'ambulanza mi ha detto che cosa ne pensi cosa succede la cosa d'acqua da un articolo è lo sapevo che c'era la voce di questa ambulanza ma l'ho lasciato da parte anche se avevo le mie i miei pensieri certo se mi dai un articolo dove addirittura si evince che c'è la passa con che poi venne da il rappeggianti o senza allora che cominciamo e si parlano cosa ne pensi cosa non ne pensi e questo sarebbe anche un buon motivo per il fatto che qualcuno non doveva parlare cosa aveva mai visto mai nella notte che non doveva appunto dire cosa mai aveva visto nella notte e per riconoscere qualcuno una persona che cosa come cosa la cosa della descrive una persona di notte no quindi deve avere un segno di riconoscimento degli atteggiamenti che si identifino in certe persone e in certe sì in certi gruppi o anche singola persona perché un guardone a volte mi imbroglio dico barbone perché un guardone semplice guardone io come guardone che vedo fare un omicidio a una persona io non la conosco visto è considerato già una volta lo dissi e sono armato io prendo gli sparo tanto a me di perdere una mazzare col petto me ne frega nulla ci metto un bigliettino sopra video questo è il vostro mostro che cercavate questo non avviene mai qualcuno vede ma non parla qualcuno vede ma note si ripena però zitto telefonata arrivano sempre al giorno del castigo e comunque questo vostro non si attura questo questo guardone o psado reader che che pur chi le possa essere che sei lotti potrebbe essere anche lotti no mamme guardone cosa cosa mi costa di sparare un colpo in testa no una persona come lotti che fa una cosa del genere davvero no dico guardare perché i guardoni erano quasi tutta armate all'epoca anche una testimonianza annessa vedo un lotti che non ha potere e qui che voglio vedo un vanni poi vedo un pacciano è un pacciano è un lotti non c'ho scusate non c'ho non c'ho da preoccuparmi nel caso io ammazzassi questi individui contadini che li conosce ammazza questi e chi mi viene a cercano a me come come si vede poi in fondo no incontrato il pacciano non è che bene qualcuno a scaggio un anno fa l'altro mi fiduvere e poi si prosegue la storia è la non succede proprio nulla perché nessuno nessuno tiene di conto di queste re disgraziate e poi verranno messa l'agonia perché serviranno in fondo e da me guardone vedo fare una cosa scena così e spara tutte e tre io fosse un favore agli inquirenti poi dopo diventerò un mostro di però io scompare cioè poi sparisco spara questi tre via nessuno a meno che la polizia non vuole accattarmi se ci riesce perché poi senza tutte le camere senza nulla quindi se ci fosse qualche guardone che d'accordo con me poi insomma e comunque con tutte le provo annessi no procurato seguendoli procurando anche l'arma questa è l'arma questa sì chiaramente passerei anch'io da da mostro però insomma alla fine fine potevano fare fuori con tanto nessuno avrebbe cercato sì ho detto poteva essere cercato io facendo passare l'europele eccetera eccetera però è vero che potevano dopo ricercare mezzo perdoni sempre perché perché c'era sempre testimoni che ti vedeva può ammazzare ma c'era sempre questo pericolo qui no e questo sì sostanzialmente c'era cioè qual era il problema il problema è che c'era sempre la paura degli inquirenti gli inquirenti e poi dicono sì eh ma te l'ammazzate perché poi volevi dare la colpa a loro e invece se te no comunque se uno lo storiava bene un passo la montagna poteva anche giustamente prima di fare un omicidio uno pensa si fa il tragitto non mi conviene ammazzarli nel diciamo nelle piazzole vicino alle piazzole nel mare nel sacco non mi conviene perfetto perché giustamente ci sono altri guardoni mi vedono e poi dopo si fanno i film film se li fanno perché conoscono bene tutti se hanno visto cosa succedeva che vabbè li seguo non dico nulla niente passa montagna li seguono uno li fa fare tutte e tre riguarda queste altre guardoni e pigliatevi tanto da oggi in poi non accadrà più nulla magari potevo anche fare le foto potevo fare quello che volevo io non era un problema comunque il metodo lo trovavo comunque però questo non avviene non avviene perché veramente questa è una cura di questo questo killer o coppia o o che era o come avveniva no sì va bene dico io certo l'ambulanza fa comodo questi vengono cariano le persone e se ne vanno via e poi voglia te al gironsolare non trova nessuno ma magari passo un'ambulanza ci sta che qualcuno si fa che il segno della luce già ci guarda se non ci fosse loro a salvare magari entrerà l'escissore e lo spallatore scortava l'escissore in ambulanza può per dire ipoteticamente sempre potenzialmente allora ci si mette a parlare più o meno di questa persona mi ha dato questo questo video e si torna sul discorso la pure di che cosa dovrebbe essere tanti discorsi no e sito si fa un passo indietro si torna baccaiano o meglio passavanti rispetto al calenzano penso che quando entra vede un'ambulanza questo che cresce da questa tenda pseudo campeggio così dice l'articolo andata a vedere sotto la live no video la live nell'ambulanza ti ho messo e allora sostengo e donna mia opinione chiaramente tra persona persona quindi non c'è dieci persone e confermo parla tra me e questa persona che cosa questa persona vuole divulgare i miei dialoghi allora lì che poi lei o lui o coloro no loro no perché la persona parlo con una persona singola quando parla una persona singola si deduce che di regola non è difamazione e calunnia perché te ti rivolgi a lei per prova se non può divulgare perché allora in quel caso farebbe lei il gioco della calunnia è falso quindi rimane fra me chi chat o chi telefona le proprie opinioni quindi se registri e poi divulghi quello non lo può fare quindi può registrare qualsiasi cosa finché non lo commette reato verso la persona stessa tutte le regolettine no però finché io do un mio parere un mio punto di vista e lo dico a lui o a te o una persona rimane fra me e lei poi lei non può divulgare questa è la legge della della base dell'informazione dell'aurugia della zona un po lo studiate perché per fare informazione qualche regoletta dei sapi anche se viene a baccaiano ste misteriose telefonate alle allegranti che tra l'altro durano per un bel po stai zitto stai zitto stai zitto la scusa vi insomma potessi tartassamente poi non so quando andranno a smettere eccetera eccetera questo porta a far pensare chi commette o gestisce o fa queste questo invece di a pensare a pensare a pensare che la della monia fa il gioco mi fa finta e lui parla il mainardi poi dopo il giorno dopo umore e non ce la fa domanda non ce la fa o non ce la fa cioè mainardi dice qualcosa alla della monia e la della monia dice guarda è morto non ce l'ha fatta o qualcosa gli dice e la della monia dice ormai è morto e se lo tiene quindi il sospetto per chi conduce per chi è complice per chi è colpevole di questi amici di qui dice sì ok ma se questa fa finta che lei è morta invece poi la taglia l'ha detto e lei fa finta nulla e sa quindi qui si rischia riscatta la bambola riscatta la bambola perché secondo me in un momento di tra la vita e la morte dove c'è pochissimi secondi come puoi descrivere tu una persona in pochissimi millesimi di secondi è impossibile è l'altro basso aveva pelli riccioli corti ma non si sa c'è troppo tempo e insiste il mostro insiste ma cosa ha visto di parlare insomma sì non parlare insiste ma vedevo non mi ha piantato un colpo nella nella testa per cui anche se avessi avuto la forza di parlare non è che abbia potuto dire tantissime cose allora io ho pensato a una cosa che era quella famosa ipotesi che io vi dissi se volevate sapere un'altra ipotesi da me così balenata nella testa chiaramente un minuto chiaramente balenata così ma è chiaro che non è una verità assoluta un'affermazione sono così su di flashback che va a portare a piccoli indizi su certi posti diversi e mi porta a pensare no? allora mi viene in mente e dico ma forse qualcosa potrebbe avergli detto in qualche millesimo di secondo e che cos'è? allora cosa penso io? penso un po' ai vanni e penso un po' a un ritrovamento e mi sono fatto un po' di mente locale ho detto certo per fare altri tipi di omicidi specialmente anche sulle scissioni non sui primi omicidi i primi omicidi per me fanno parte di un'altra storia quella incertezza quella punsecchiatura di 90 volte un mezzo frastornato non si sa se l'ha un ritrovamento non si sa mezzo frastornato non si sa se voleva confondere i fori dei proiettili con quelli della cacciata non si sa no? tanto è vero che prima di arrivare alla pistola cementano e poi dopo ci arrivano quindi non si sa se è fatto per depistare gli spari e quindi far passare l'omicidome come arma bianca poi in realtà dopo l'autopsia sempre gliela fosse fatta un po' hanno scoperto comunque hanno visto bossoli e sicché quindi quello che fanno loro lì dentro e quello che vengono dopo nessuno di noi possa averlo però dopo queste scissioni queste scissioni un po' particolare con tranquillità c'è un tipo di etnia o di persone che lo fanno con disinvoltura non hanno proprio empatia nel fanno anzi magari lo facessero tutti i giorni e io ho dato uno spunto del problema culturale dell'epoca con quello che era di quello che disse i panni e quello del ritrovamento che c'è fu poi io devo collegare ho detto non è che sia vero è una ipotesi flashback allora secondo me l'unica cosa che posso aver detto ipoteticamente il Mainardi è una parola e basta non una descrizione e poi non è che l'abbia detto ma la paura di chi telefona e abbia paura allora che parli è perché il mostro che per lui avesse avuto un'identificazione talmente così netta così facile non sento così identificativa ma così e paurosa da 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 confessare perché era così beh se è così basta abbiamo abbiamo già capito chi è chi può essere o come possa essere andato a prescindere dal fatto di altre deduzioni fatte in aspetto di Calenzano l'ambulanza non andiamo a fare quello è un altro che non è detto che non è detto che sia utilizzato in tutte le tutte le e tutti gli omicidi con questo apre chiudo parentesi perché voglio dedicarmi a questa cosa perché sto dicendo e non voglio fare troppo confusione ok io dico poi collego se mi riesci a collegarlo per bene perché non è tanto allora un berretto una divisa una scenatrice ma anche lì c'è atrice vabbè lì c'è una descrizione poco tempo e netta con tutto il rispetto di quello che sto dicendo nella forma e lo dirò devo confidare a chi ascolta questo video che negli anni 80 perché sennò si passa da quelli cattivi all'epoca descrivere certe persone con questa parola io dirò era una cosa normale erano nelle canzoni nei dischi e poi dopo con l'evoluzione abbiamo modificato parte non vedo cosa ci sia da vergognarsi perché io di come sono fatto non mi vergogno quindi potete chiamare come volete se sono quelle che sono sono così però dirò quello che la parola non va più di moda e chiedo scusa se dirò ma è probabile negli anni 80 fu detta se i mainardi avesse avuto la possibilità di dire anche una sola parola nell'orecchio a bassa voce stracciando in qualsiasi persona che avesse detto cosa hai visto il mainardi avesse potuto dire un negro negro cioè di colore bastava dire solamente quello che qualcuno dice come negro ma l'epoca negro era definizione etnia verso nord africani e africani eccetera 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 allora di colore o che insomma o di come a noi ci dicono di bianchi ci dicono di bianchi ognuno ha la sua però noi non abbiamo però per chi si offende oggi abbiamo tutta una particolare definizione di identificare i nostri i nostri carissimi amici ospiti che tra l'altro ci danno anche una mano sul lavoro e quindi bisogna rispettarli chi si comporta bene e qualcuno vi dirà ma che cavolo ci intendiamo questo è di fuori ma te sei di fuori ma te datti cioè allora io fa un cortometraggio flashback della problematica culturale sociale dell'epoca congiungendo con quelle dissipate poi aggiungendo un ritrovamento di uno all'epoca c'era in una nazione che era ora su questo l'ho studiata ma non so di per certo dove io a scusate in ruanda il famoso purtroppo genocidio del ruanda quindi dovete bisogna studiare i tuzzi e poi tutte e quattro non ce ne sono altri le quattro suddivisione di queste di questa di questa etnia c'è un po differenza però la creare una differenza nonostante erano persone di colore cioè tutte della della solita famiglia la popolazione fratelli io diciamo tutti fratelli come sempre il bianco quindi c'erano dei mezzi tedeschi perché il ruanda era un po della germania un po perché molti non lo sanno e ruanda invece no anche ruanda in quell'epoca si parla degli anni 90 credo quando poi ci fu il genocidio e tutto il resto c'era mi sembra tedeschi e non vorrei sbagliare anche i francesi qualcun altro c'è chi c'entra il genocidio ma a te sta tutto di fuori allora per chi non sa la storia cioè i 2000 che sessantottini la sanno tutta sappiamo che il genocidio del ruanda fu una mattanza epocale in quanto qualcuno appartenente a uno dei quattro gruppi non so se i tuzzi o altri insomma erano suddivisi in quattro tuzzi sono è una classe sociale no i più ricco e meno ricco e poi e poi veniva comandati a vennero manipolati da da sempre dai bianchi 15 furono manipolati perché volevano che si creasse la differenza che poi dopo fare sì che si scannassero fra di loro questo io poi non ho studiato bene la storia però questo era l'obiettivo l'obiettivo sapete benissimo e quindi debellarsi a vicenda che poi dopo andare ad aggredire un po come fanno ora no nel senso no poi danno la colpa poi chiaramente venivano armati le armi che gli le davano bianchi sempre lo solito trucchetto da barracone e che purtroppo molti ci cascano a che vengo in appunto dalla dalla disinvoltura delle scissioni delle mutilazioni viene proprio sul discorso di come loro di come chi diciamo aveva questo questo questa questa metodologia di far fuori i propri fratelli però chiamati un altro nome che poi dato un po diciamo e il popolo poi si mesero in divisa a creare un nuovo gruppo e poi andare nei villaggi poi a fare a far fuori chi magari loro non volevano più insomma fece una bella manipolazione però andate a studiate meglio però il ruanda e leggendoci di ruanda è famosissima storia specialmente negli anni 90 ma famosissimo perché il 90 per cento della popolazione dall'altra parte era stata fatta fuori comaceti quindi una parte d'oro disse dateci l'ordine non so se i tuzzi o a guardi l'ho sentita ieri un po di storia ruo a no i tuzzi me ne va sto impresso poi c'erano anche c'erano quelli più artologati c'era quelle meno meno altro lato e quindi addirittura che aveva 10 mucche era il più privilegiato di la meno 9 e via discorrendo non so per creare la differenza e per metterlo con l'altro e poi i propri obiettivi comunque c'è sempre il bianco anche poi il cattivo siamo sempre noi nonno io ma insomma chi c'era quindi un appartenente del gruppo disse guarda se voi ci date in 20 minuti oppure voi sì 20 minuti dice noi 20 minuti si fa fuori io ho sentito 8 8 mila persone lo vai genere quindi va in base anche a quanti ne erano poi sì comunque non so in quanto quante migliaia di persone facciamo forse la metto e macete addirittura poi mi metterò uno short dove dice che erano allenate a corpo nella guerra corpo a corpo la maggior parte degli attacchi era fatto corpo a corpo e usa soprattutto di macete con una disinvoltura tranquilla e questo mi è rimasto impresso perché mi viene a collegare i discorsi e poi andrò a forse qualcuno l'ha già capito banni e ritrovamento a che sono rimasto impresso 20 minuti 88 credo 8 mila persone in 20 minuti comunque potete andare a studiarvela io l'ho passata come esperienza diretta ma per me per noi sono cose normali di 70 60 sono cose accadute sono bruttissime se andate a vedere su youtube non vedete le scene più brutte mentre noi quando eravamo più ragazzi si vedeva anche le scene più brutte ci facevano vedere a telegiornale proprio le scene più brutte brutte tutto ci facevano vedere che a volte si diceva ma saranno veri sembra finti cioè no che sembrava finti però all'epoca veramente vediamo metterlo contro l'atto fanno per coprire una guerra poi non hanno da fingere no quando è più semplice far scontrare due o quattro parti quattro parti dopo sono più forti versi più debole no e mi rimasto impresso il discorso che siccome chi con il solo rimacete riusciva a fare cose indecifrabili chi agiva con selezionando c'è tutta una storia da vedere bruttissima ciò si stancava perché dopo un po si stacca non è che l'ammazzonale proprio a catena come produrre la produzione morti ma c'è hitler però questa facciamo a mano quindi si davano il cambio quindi duravano fatica e si accampavano coloro che finivano la mattanza con il macete per dare cambio agli altri quindi si stancava si andavano a riposare una catena quindi per loro tagliare accettare nulla allora ho detto ma non è che qualcuno viste noi considerate non è che avessimo all'epoca avuto una cultura che fino a un punto così atroce e così a di accalimento quasi non da non crederci non vorrei qualcuno abbia ruolato qualcuno e per fare queste cose potesse essere normale e che quindi possa essere accaduto questo a che sembrerebbe proprio e vabbè questa metto si può che potrebbe passare come favola lasciamo fare no però lì non viene fatta l'eccezione però magari poteva essere stato bravo anche a sparare e questo non si sa però c'è la coppia dei tedeschi e la coppia dei francesi vabbè da un caso secondo me da un caso non ci fate caso sono cose che sto dire così per anche uno dice beh ma te ma cosa congiunge questa cosa qui congiungo questa cosa qui perché non c'è tempo di descrivere la persona l'unico metodo per descrivere la persona uno poteva ma in manardi poteva venire anche polizia c'è che la polizia ma la polizia è qua no polizia poliziotto sì sì poi è intervenuto che no era un calaveriere cioè che non poteva mai invece è negro un po' come l'olindo no olindo nella straccia d'erba va a descrivere scuro no infatti cosa succede succede anche lì polizio sì scusatemi il frigerio sarebbe il testimone che poi dopo mettono nel mezzo e fanno tutta una manipolazione da come gira le voci che poi dopo accanisti verso l'olindo lasciamo stare comunque nel primo archito il frigerio mi sembra sia ma così vede uno scuro e infatti prendete l'esempio di frigerio quando che non c'ha praticamente nemmeno voce scuro come dire scuro di pelle e lì lasciamo stare lì lasciamo facciamo finta di nulla fate finta non abbia detto nulla comunque la stessa cosa anche dopo a te come congiungi c'ho il tempo di non poter dire tutta la descrizione con una parola purtroppo descrivo tutto a che qualcuno il bene ma sa ma così non va bene perché ce n'è tanti di sì ce n'è tanti ora no nel senso ci sono tanti cinesi sono tanti e portoricani poi c'è anche come si chiamano gli uruguayani tutte persone sono emigrate per darci una mano e oggi c'è l'integralismo l'integrazione quindi fortunatamente abbiamo questa cosa che ci danno una mano nel mondo del lavoro e tutto il resto ma all'epoca negli anni 80 e negli anni 90 non era così normale trovare una persona di colore frequentemente ma perché perché noi colpe nostra ancora non eravamo giustamente allineati per una pace per una pace per congiunta e una fratellanza ben unita cioè si diceva tanto che non qui non là però non si era ancora pronti a integrare e essere tutti insieme oggi si ci siamo diciamo che va abbastanza bene anzi meglio di quello che uno si aspettava in poco tempo insomma abbiamo anche combattuto il 90 con l'80 per cento anche il 90 per cento del razzismo anche a livello ideologico quindi questo fa bene ma all'epoca negli anni 90 se uno diceva un negro e la parola negro c'è nei dischi e c'è anche nella valutazione che ora vi starò vi dirò a breve quindi facendo un calcolo a questo alla problematica culturale sociale del ruanda perché secondo me un persona del genere in quel momento che avesse l'annuncia l'ansia di fare certe azioni potesse essere stata affolato con tranquillità veniamo ai vanni vanni e confessa quando il ne si va in carcere e dice lo lo sai è ulisse in nero quindi è ulisse in nero nero come vestito di nero nero come nero di carnagione ulisse perché perché era un codice per chi non si potesse amare per nome quindi si inventò ulisse l'ironia del fatto ulisse perché perché era scuro e perché la notte non si potesse vedere e non si potrebbe vedere quindi era ulisse e nessuno e nessuno e di notte e questo è il gioco delle tre carte può darsi quindi era ulisse ulisse in nero dopo di che si va hai ritrovato andiamo in l'ago a si meno di uno e dottor narducci loro l'hanno trovato morto ma in realtà tirano fuori una persona di colore e ricongiungo anche a quello colui che tira fuori a prescindere le storie della registrazione di morte non dirego morti sottete scuse sapeva benissimo oggi la voce che qualcuno di lì che gestiva e tutto voleva chiudere a più presto lo status di mortes del risuomente del cadavere perché perché era evidente era di colore e che rimessa di bassa la verità tra l'altro dottoressa anche imbarazzata però doveva fare un piccolo esame e poi dopo fare un piccolo piccolo verbalino e dire se va bene colui che abbiamo trovato è morto ecco sì no ci basta è per non andrò ma questo è di colore no non ci lasci fare ecco questo sembra che sia accaduto nel trasimeno allora la descrizione fu da un dottore detta con questa parola ritrovata blevere e la ricostruzione dell'etnia questa parola un negroide non negroide di offesa perché era proprio la descrizione a quell'epa che veniva diciamo indicizzata per un ritrovamento di un'etnia di una persona di colore se era cinese magari diciamo una cilesoide non lo so se era un norvegio con ciglia bianche ne so però a quei tempi la descrizione verbalizzante fu una negroide quindi era una persona di colore quindi a che tornando indietro che qualcuno cercava l'allegranti oh zitto lì ma avrà parlato e la dell'amonia lo sa e fa finta di non saperlo e quindi noi si rischiano che chi all'interno gioca questo giochetto oppure no vabbè noi non vogliamo rischiare facciamo fuori l'uno e l'altro e qui chi lo sa se ho sbagliato sono sbagliato però sta il fatto che dal lago trasimeno avrei fatto o meglio viene tirato fuori questo personaggio di colore e poi due peccioni con un con un nome quindi le groide era dottor narducci dottor narducci la barra era dottor narducci però con questo con questo atteggiamento avrebbero eliminato due persone nel caso fossero stati colpevoli o comunque conoscenti dell'azione omicidiaria verso le coppiette ecco perché così mi è venuto in mente lo spazio minore per non poter descrivere per intero il colpevole ma la paura di chi telefonava del fatto che la potesse fare ma non poteva che tempo i colpi le avrebbero resi in testa vedete cosa e quanto tempo avrebbe potuto avere il main art del potile descrivere una persona pochissimo però una parola poteva descriverla con facilità assoluta perché in quel momento in quell'era negli anni 80-90 non c'era frequentemente le persone di colore e che quindi dicendo negro o quella parola come disse dottore un negroide estratto dal nago trasimeno potesse rinfluire su qualcuno di colore avvistato chissà forse in Sacasciano con qualche personaggio forse insieme al dottor Narducci chi lo sa però a questo punto qualcuno secondo me non voleva rischiare e quindi questo incrocio, questa cosa contorta di questo personaggio di colore estratto ma non era lui però moro ugualmente Narducci perché mori Narducci? allora perché non ammazzi i clima? allora forse uno fa 2 più 2 che poi dopo sorge e potrebbe far 4 per esempio però come dico sempre non fate aso a ciò che dico io però un sospetto di certe cose a volte può avvenire e con questo in 36 minuti ho detto una mia chiaramente qualcuno mi dirà ma la data? ho chiesto informazioni sulla data di Scopeti e tornerebbe con l'85 Narducci, Baccaiano e tutta la via diciamo tutto il tempo che poi dopo è sorto forse per non poter continuare a tenere e poi eliminare e poi darsi che poi dopo era deciso che comunque qualcuno poteva essere venuto a sapere della verità e potete fidarvi che se qualcuno sapeva quel qualcuno che era colpevole deve essere fatto fuori cioè nessuno, cioè chi agisce lo fa è un'azione che fanno i mafiosi quindi chi fa a volte gli omicidi viene poi a sua volta ammazzato da uno dietro che non nessuno deve rimanere solo chi ha la posizione chi può rimanere in piedi sapendo la verità chi ha il potere di non essere toccato cioè anche se te mi dici sono stato l'assassino non mi puoi toccare non mi puoi toccare perché ho un'immagine e c'ho un oltre che immagine c'ho un valore e un ruolo troppo importante può dire che sono stato io c'è gente che si è messa a ridere per cui insomma e si arriva a far fuori chi sa ma arrivato a chi è importante è inutile non importa farlo fuori se no si fa la fine della moglie del calamandrei è grulla, è pazza è calamandrei figurate se vai a colpare un pezzo ancora più grosso vabbè comunque per stasera o meglio per oggi o meglio in questo video ho dato la mia delucidazione una mia ipotesi che porta a pseudo-giustificare due o tre elementi l'elemento del vanni Ulisse il Nero l'elemento del ritrovamento della persona di colore nel Trasimeno l'elemento della paura di chi aveva del Mainardi di aver confessato stranamente in così pochissimo tempo la descrizione del mostro come poteva farlo buona giornata a tutti e scusate che sono sbagliato a tantissime cose le carte non ce l'ho peccato ciao a tutti